In questo momento non c'è il problema di Chianese, c'è il problema di capire le motivazioni perché le ultime due partite non ci sono state le prestazioni. Il gioco sono d'accordo che non c'è perché non è un gioco che convince, non è un gioco che esalta, non è un gioco che piace. Quindi è normale che il tifoso, comunque chi gli piace guardare il calcio, non è soddisfatto. Quindi Chianese al momento non è in discussione? Assolutamente, mi sembrerebbe sbagliato prendere una decisione sul dopo partita, quindi innanzitutto quello che si apre a noi è una discussione tecnica per capire le motivazioni, se sono da incolpare al mister, ai giocatori o alla società, perché a me piace sempre fare l'autocritica e prendermi le mie responsabilità. E quindi ognuno deve prendersi le proprie, quindi nel momento in cui andiamo individuale qual è il problema sicuramente porremo rimedio.